Sono Teresa Sifonetti, responsabile dell'accoglienza clienti presso l'azienda agricola Siviglia, ubicata nel comune di San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza. Attività fondamentali dell'azienda sono la lavorazione del pecorino al latte crudo e la produzione di olio extravergine d'oliva. L'azienda conta di un allevamento ovino di razza sarda, circa 250 capi, ed un potere di 20 ettari di terreno, urivetato con la varietà dolce di Rossano. Il nostro cavallo di battaglia è la lavorazione del pecorino al latte crudo, senza aggiunta di fermenti. Le nostre pecore vanno a Pasquolo, allo stato brado, ritornano in stalla dove avviene la muncitura e successivamente il latte viene trasferito presso il casificio aziendale, dove avviene la lavorazione senza aggiunta di fermenti, proprio come si faceva una volta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.